Cosa vogliono le donne dagli uomini? Intanto diciamo che ogni donna è unica e irripetibile. È una domanda che da un certo punto di vista potrebbe sembrare retorica. Però ci sono delle cose che sono universali. Ovviamente questo da un punto di vista logico e razionale. Poi ovviamente se la donna non è equilibrata emotivamente potrebbe innamorarsi di chi le dà tutto il contrario. Ovviamente le donne da un punto di vista logico vogliono sentirsi apprezzate. Qualsiasi donna vuole un compagno di vita che la faccia sentire ammirata, amata. Indipendentemente diciamo da quello che succede una donna vuole essere apprezzata. Se una donna però non ha un buon equilibrio interiore, un'armonia tra parte logica e parte emotiva potrebbe innamorarsi invece di chi la disprezza. Le donne vogliono sentirsi desiderate. Ogni donna vorrebbe essere vista anche come un essere sessuale, un essere femminile. Vuole sentire il desiderio di un uomo. Una donna sente un bisogno di sicurezza, anche se è indipendente, anche se è autosufficiente. Però ci sono degli istinti atavici. Per cui una donna vuole sentire che può fidarsi del suo partner. Vuole sentire che qualunque difficoltà ha la certezza di avere il partner alle spalle. Le donne vogliono comunicare e questo è un altro punto importante. Ogni donna vuole essere ascoltata con attenzione, con partecipazione, vuole essere accettata per quello che è. Anche questo può essere semplicemente da un punto di vista logico e razionale. Perché ripeto, ci sono poi donne che si innamorano di chi invece le rifiuta, di chi non vuole comunicare. Questo perché essendo distoniche, diciamo, essendoci una distonia tra parte emotiva e parte logica, la parte emotiva si nutre del contrario di quello che vuole la parte logica. Quindi da questo punto di vista è molto importante imparare a darsi delle emozioni, imparare a farsi amica alla propria parte emotiva somministrandosi emozioni in modo tale che se un uomo non ti apprezza, se un uomo non comunica, se un uomo non ti fa sentire sicuro, se un uomo non ti fa sentire desiderata, se un uomo non ti fa sentire apprezzata, lo mandi a fanculo! E te ne trovi un altro che invece fa tutto questo. Seguimi su Instagram, Massimo Terramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube, tra cui il nuovissimo canale Liberty dei Narcisisti con Massimo Terramasco. Ciao a tutti!